Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog, oggi un video diverso, come potete vedere ho rifatto il colore e per curare appunto i miei capelli dalla decolorazione sto usando un bel po' di prodotti, tutti della L'Oreal tra cui shampoo e balsamo che adesso vi mostro, ne ho comprati un bel po', non è un video di collaborazione ho speso tutto di tasca mia, quindi se in futuro farò una collaborazione con la L'Oreal io userò sempre solo questi prodotti io già li uso da molto tempo e mi sono sempre trovata bene, quindi ho pensato perché non pubblicarlo in un video e quindi eccomi qua con un video apposta dei prodotti della L'Oreal allora ho comprato 6 prodotti ragazzi, tra cui qualche shampoo, qualche balsamo e vi dico anche i prezzi perché li ho comprati oggi, ho fatto il rifornimento perché avevo finito tutto con la scusa della decolorazione e con il caldo, faccio lo shampoo si può dire due volte al giorno e adesso vi mostro il tutto allora inizio da questo maxi formato, sempre è il VIV L'Oreal Total Repare 5, balsamo riparatore questo balsamo riparatore fornisce resistenza, vitalità, brillandezza, tocco seta e morbidezza è adatto per appunto i capelli danneggiati con una nuova formula di calendula più ceramide e ripara intensamente e posso dirvi ragazzi che io ho fatto 4 decolorazioni a distanza di 10 giorni tra l'una e l'altra e questo è un salvavite questo è il maxi formato da 400 ml e l'ho pagato 2,99 euro infatti anche qui dice capelli danneggiati, ripara, rinforza e rivitalizza passiamo avanti, e l'ho preso anche, no, gli altri sono diversi e questo è un balsamo, infatti è un balsamo poi ho preso, sempre balsamo, questo di qua questo è il formato da 200 ml l'ho pagato 2,20 euro, sempre L'Oreal Paris El VIV questo è un'antirottura, è anche lui un balsamo riparatore con azione al cuore, nuovo attivo, 10 strati penetranti per capelli secchi, danneggiati e doppie punte anche questo ha una formula nuova ha un'azione profonda fino al cuore del cuoio capelluto riparazione profonda, ricostruzione integrale del capello ragazzi e trasformazione fino alle punte e quindi e quindi questo è l'altro balsamo che ho preso poi sembra nuovamente un altro balsamo perché ne uso quasi tutti i prodotti della L'Oreal, specialmente di questa linea qui ed è questo di qua sempre L'Oreal Paris ed è un olio straordinario balsamo nutriente questo nutre senza appesandire cute e fibra per capelli secchi o spenti questo è quello che dà un po' di lucentezza infatti ha 6 micro oli di fiori preziosi ragazzi e avvolge la fibra per nutrire senza appesandire a partire dal cuoio capelluto si fonde con ogni fibra per apportare ai capelli una fluidità e morbidezza prodigiosa illumina i capelli per rivelare una brillandezza straordinaria anche questo l'ho preso 2,20 euro ed è da 200 ml e poi ha un olio un odore molto particolare molto dolce ragazzi e ora passiamo ai shambi allora è caduto un po' allora questo di qua è il Vive Paris con oli straordinari è un shambon nutriente nuova formula sempre con 6 oli di fiori preziosi è il diciamo simile al balsamo questo di qua per capelli secchi luminosità intensa e morbidezza senza appesandire anche questo ha 6 oli di fiori preziosi consiglio per i capelli secchi quindi anche quelli un po' trattati questo l'ho preso 1,99 euro erano un po' in offerta rivitalizza e illumina per la fluidità prodigiosa per il cuoio capelluto andiamo avanti poi ho preso questo di qua questo è un multivitaminico 2 in 1 shambon vitalizzante con multivitamine E più PP più B5 per capelli normali questo è per vi stavo dicendo questo perché si è staccata la videocamera questo è per capelli normali dona brillandezza alla fibra nutre i capelli dalla radice fino alle punte ristruttura la fibra applicato sui capelli bagnati massaggiando la cute e poi si risciacqua e anche questo è sempre della L'Oreal passiamo avanti ultimo prodotto che è questo è l'equivalente di questo balsamo qui allora questo è sempre uno shampoo riparazione intensa L'Oreal Paris del Vivo total repair anti rottura per capelli molto secchi danneggiati e ricostituisce integralmente la fibra del cuoio capelluto questo ha un infuso con il potere di lac 1000 più ceramide per ricostruire i capelli dalla radice rinforzare e rendere i capelli morbidi fino alle punte consigli per capelli molto danneggiati ragazzi quindi per chi come me fa la decolorazione o la tintura il cappello giustamente si si intembolisce si sfibra e come nel mio caso un po' si spezza questo l'ho preso 2 euro e 20 quindi li ho presi quasi tutti 2 euro e 20 gli sciambi e i due balsami questo invece l'ho preso 2 euro se non ricordo male invece questo è 3 euro perché è quello grande questo è formato grande e niente ragazzi questa è una nuova formula infatti c'è scritto l'AC 1000 non l'avevo mai visto sinceramente ed è da 250 ml invece tutti gli altri sono da ah pure ah gli sciambi sono da 250 ml non me ne ero accorta mentre i balsami sono da 200 ml tranne l'altro che è da 400 ml e che dire ragazzi questo video termina qui non so se i miei capelli vi piacciono la radice è biondissima normalmente dovrebbero venire tutti così ma essendo stata nera per tanto tempo è un po' difficile riprendere quel biondo infatti la radice è biondissima e niente ragazzi che dire questo video termina qui questo ripeto non è un video in collaborazione con nessuno io uso da molto tempo la L'Oreal però se la L'Oreal vorrebbe contattarmi io sono qua tanto alla fine io li comprerò sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale qui fa un caldo pazzesco ragazzi non se ne può più io odio l'estate ve lo dico bello chiaro che ci vogliamo fare però pazienza quindi vi ricordo di iscrivervi al mio canale di attivare la campanellina che c'è a destra per essere avvisati ogni qualvolta esce un mio video non dimenticate di mettere un pollice in su e soprattutto di scrivere un commento io vi lascio vi ringrazio per aver visto questo video e soprattutto noi ci vediamo al prossimo vlog ciao Grazie a tutti.